Benvenuti sul canale, dalla Fara e da Fuzz. Innanzitutto grazie per i numerosi commenti che ci avete lasciato sui vari social in modo da decidere insieme quali argomenti toccare nelle prossime appuntamenti come oggi. È stata una scelta difficile perché molti argomenti sono stati proposti una volta sola e ci sono state molte proposte. Abbiamo quindi deciso, parlo sempre al plurale perché vedete la mia faccia, ma è un lavoro associativo, abbiamo quindi deciso di scegliere fra quelli che si sono riproposti più volte, magari su più piattaforme. Quello più diffuso in questo momento, ma veramente per poco, era il tema dell'abitazione. Quindi oggi discuteremo di come abitavano i Longobardi. Bene, una premessa necessaria è il fatto che l'abitare Longobardo si colloca all'interno di una situazione edilizia e abitativa che era già in divenire al loro arrivo. Infatti non dobbiamo immaginare l'Italia che loro conquistano come quella ancora dell'impero romano classico. C'era stata tutta la tarda antichità, c'era stato il periodo goto, c'erano state anche le guerre greco-gotiche e quindi il mondo cittadino si era già evoluto. Vi presento a Shraf, uno degli abitanti della sede associativa. In questa evoluzione precedente, quindi dicevamo l'arrivo Longobardo strettamente detto, il primo dato fondamentale è la crescita d'importanza del legno come materiale edificatorio. Se i periodi precedenti, immediatamente precedenti, erano stati caratterizzati soprattutto dalla pietra e dall'atterizio, il legno si affaccia prepotentemente nella tarda antichità e poi rimane elemento fondamentale per tutto il Medioevo e soprattutto l'Alto Medioevo. Legno che però viene usato in più modi e con più soluzioni. Innanzitutto dobbiamo pensare che viene usato in diversa maniera a seconda che si sia in città o in campagna. Quindi in un contesto rurale avevano un utilizzo del legno probabilmente già prima molto forte. Nella città invece è una novità. Anche questo uso in città dipende dalla scelta di chi lo usa. E quindi può essere un legno utilizzato per costrutture nuove, che spezzano completamente il tessuto urbano o che si sovrappongono a vecchie strutture di cui non riconoscono il valore o di cui non credono sia necessario il recupero. E quindi magari ci sono strutture che si impostano su pavimenti musivi bucati per mantenere i sostegni in legno delle nuove coperture. O ancora può essere una soluzione di mezzo. Alcuni muri ancora in piedi vengono riutilizzati, ma ricoperti e completati nelle parti mancanti da nuove strutture in materiale deperibile, legno o paglia. In questa evoluzione dobbiamo tenere conto anche del fatto che alcune città hanno avuto più fortuna e altre meno in questo periodo di transizione. Alcune erano riuscite comunque a costruirsi una loro identità e un loro vigore economico, altre invece no. E in questi casi ovviamente l'economia e l'impoverimento di alcune parti della popolazione influiva nettamente sulla necessità di utilizzare del materiale più facile da reperire. Su questa struttura si innesta l'arrivo dei longobardi. Una seconda premessa necessaria riguarda adesso l'architettura abitativa, l'edilizia abitativa di stampo barbarico. Perché? Perché adesso abbiamo detto come era più o meno a grandissime linee, vi ricordo sempre di approfondire sui testi specialistici che vi lasciamo in parte in bibliografia e in parte da quella bibliografia potete ovviamente spaziare larghissimamente. Dicevamo, abbiamo avuto un'infarinatura di quella che era la situazione in Italia e allora perché però diciamo di un'edilizia lungobarda? Perché c'è in effetti una tipologia abitativa molto diffusa nel mondo germanico che sono le cosiddette Grubenhäuser o Grubenhauser per dire l'italiana, cioè capanne in materiale deperibile semiscavato. Cosa vuol dire semiscavato? Vuol dire che rispetto ai pali che sostengono la struttura, ne sostengono la copertura e creano lo scheletro su cui poi si innestano le pareti, il piano di calpestio, la zona in cui si vive all'interno di questa capanna è fra un metro e un metro e qualche centimetro più in basso rispetto al piano esterno alla capanna. Quindi noi arrivando dalla strada, dal sentiero, dipende da qual è il contesto in cui questa capanna semiscavata è collocata, avremmo dovuto scendere uno, due o tre gradini per arrivare all'interno della capanna. Quindi capanna semiscavata. All'interno di questa macrotipologia esistono due tipologie caratterizzate a livello geografico e di utilizzo. Allora abbiamo la tipologia più strettamente germanica identificata molto spesso con l'ambito merovingio, quindi con la Francia dei Franchi, dove la struttura è in pali di legno, la copertura è in paglia, le pareti sono composte di terra, argilla e ramaglie compresse assieme e hanno una caratteristica d'uso peculiare. Non sono praticamente mai abitazioni, sono laboratori, troviamo fucine, troviamo molto spesso la sede per dei telai, quindi per tessere, ma non sono abitazioni. Anche quando vengono trovati tracce di focolari, in questo periodo è un lapsus comprensibile, non vengono attribuiti all'uso abitativo, ma più che altro al riscaldamento durante il lavoro o a lavorazioni specifiche. Dall'altra parte invece abbiamo le grubenhaus, le grubenhoiser o le grubenhaus, di stampo slavo. Hanno ovviamente anche loro la pianta semiscavata e la struttura in pali portante, ma le pareti vengono realizzate in una prima fase, in travi e poi in tronchi incastrati, in blocbau. Queste due tipologie sono i due estremi. Come si collocano i longobardi fra questi due estremi? Esattamente nel mezzo. Sembra infatti che i longobardi acquisiscano la consapevolezza dell'utilizzo abitativo di queste strutture nei contatti col mondo slavo, che loro sfiorano nella parte finale della migrazione e che poi avranno a ridosso del confine friulano o per tutto il periodo del regno, ma lo applicano con le tecniche costruttive più tipiche del mondo germanico. Quindi abbiamo queste nuove capanne semiscavate che hanno una struttura in pali, una copertura probabilmente spesso in paglia se non in scandole, e delle pareti fatte però non in tronchi incastrati, ma in argilla e rame intrecciati. Avrete sentito che faccio spesso riferimento al fatto che sembra, dicono, perché? Perché come per il primo video in cui discutevamo delle teorie storiche, anche per quello che riguarda l'attribuzione culturale di questi dati archeologici, ovviamente c'è un certo dibattito. Ci sono scuole di pensiero che dicono no, no, ma non è tipicamente longobarda, è una tecnica che c'era già prima, come un po' il discorso che facevamo sull'utilizzo del legno nelle città, era una tecnica che c'era già prima che in una situazione di crisi riemerge per poi risparire. A noi come associazione questa teoria non convince molto, perché poi, almeno per quello che noi comprendiamo dei dati che ci sono a disposizione, questa specifica tipologia prima non c'è e poi non c'è di nuovo, mentre l'utilizzo del legno perdura, mentre altri momenti di crisi ci saranno e ci sono stati nella storia. Preferiamo, fra le chiavi di lettura, quella portata avanti dal gruppo di lavoro del professor Marco Valenti, dell'Università degli Studi di Siena, che, insieme ai suoi studi, a quelli di Vittorio Fronza, è in questo momento, dal nostro punto di vista, il miglior quadro generale sulle capanne semiscavate in Italia. A tal proposito, arriva il momento del libro, vi mostriamo questo tomone. Allora, lo trovate in bibliografia. La cosa interessante di questo tomo è che riguarda gli scavi di Poggio Imperiale a Poggi Bons in Toscana. Ora, è un tomo che ha qualche anno e gli scavi stanno proseguendo, quindi ci sono delle informazioni, delle novità che qui non troverete. Ma qui troverete già una bellissima analisi fatta dagli archeologi che poi, oltre ad aver scavato il sito, hanno anche ricostruito il villaggio, cosa di cui parleremo più tardi. Qui dicevamo, lo sguardo degli archeologi sull'evoluzione di un villaggio che ha sia le capanne di epoca lungobarda, sia le capanne di epoca carolinta, e poi un villaggio medievale ben strutturato, con una storia piuttosto complessa e travagliata, che non vi racconteremo per non spoilerare, ma potete trovarla qui, insomma. Ecco, quindi, in questa ottica di analisi, i lungobardi, nei primi decenni della loro permanenza in Italia, utilizzano le capanne semiscavate come tipologia edilizia che li definisce a livello culturale. Gli altri potevano usare il legno, potevano usare altre cose, ma probabilmente non avrebbero utilizzato quella tipologia specifica. Teniamo sempre conto che parliamo di un quadro complesso e variegato. La presenza di queste capanne varia a seconda che si parli dei primi decenni di arrivo e a seconda che si parli di un contesto rurale, quindi di campagna, o di un contesto cittadino. Ad esempio, parlando di Cividale, che è il nostro punto di riferimento ed è capitale del primo Ducato, sono state trovate alcune capanne. Ad esempio, Angela Borzaconi ne ha indagata una alcuni anni fa, ma il livello di conservazione di questa base di capanna non permetteva di dargli un'attribuzione funzionale, cioè decidere se fosse un'abitazione o un laboratorio. Di recente, anche Luca Villa ha scavato alcune capanne nei dintorni della zona della Gastaldia, cioè del Tempieto Longobardo, ma non abbiamo pubblicazioni ancora a riguardo. Abbiamo avuto la fortuna di vedere gli scavi in corso d'opera e parlare con l'archeologo, ma non ci permettiamo ovviamente di trarre conclusioni per conto nostro. La cosa interessante è che tutti questi dati che derivano da questa elencazione sistematica delle capanne semiscavate trovate in Italia si focalizzano soprattutto sulle cosiddette buche di palo, perché per noi che non siamo archeologi la cosa impressionante è come gli archeologi riescano a comprendere le strutture di queste capanne partendo da dati che a noi possono sembrare molto piccoli. Perché ovviamente scendendo nello scavo archeologico attraverso la stratigrafia quello che gli archeologi trovano non è la capanna intera, sono soprattutto le buche di palo, cioè le buche in cui i pali erano infissi, i pali portanti. In alcuni casi fortuiti si trova anche un resto del palo e quindi si può dedurre anche l'essenza linea, che tipo di albero fu stato utilizzato per quel palo. Nei casi ancora più fortunati la capanna non è stata abbandonata ma è andata a fuoco e le pareti in terra e argilla si sono cotte lasciando l'impronta di come erano strutturate all'interno e quindi ad esempio dell'armatura di rami che le componevano e su cui l'argilla veniva compressa in alcuni casi. Ecco, quindi adesso abbiamo un'idea di come doveva essere l'abitazione Longobarda. Non dobbiamo peraltro pensarla troppo grande. La misura media di questa Grubenhaus è 3,5 m x 4,5 m. Cosa differente sono le cosiddette Longhaus che però in questo momento pur essendo una tipologia diffusa nel mondo germanico a livello italiano troviamo e troviamo ricostruita per il periodo carolingio quindi per il periodo successivo sempre a Poggi Bonsi per questo vi mostravo prima questo libro perché ha molti spunti di riflessione. Questo non vuol dire che in altri contesti non fosse già utilizzata in ambito Longobardo ma non ne abbiamo la certezza. La Longhaus è la casa del signore quindi è una casa molto grande con proporzioni decisamente superiori a quelle della Grubenhaus spesso a uso promiscuo cioè può contenere anche il magazzino o in alcuni climi più rigidi la stalla perché sono beni fondamentali che appartengono alla ricchezza del signore e in cui in una ipotetica comunità di villaggio il signore esercita il suo potere. Noi però viviamo e i nostri antenati Longobardi vivevano in un contesto che manteneva una certa urbanizzazione quindi accanto a questi paesaggi rurali di capanne dobbiamo anche immaginare la presenza nelle città invece di un paesaggio misto ad esempio tornando sempre a Cividale come sembra essere tipico delle città Longobardi Cividale presentava tre luoghi di potere il palazzo del vescovo il palazzo del duca e il palazzo del gastaldo il gastaldo è l'inviato regio il vicere se volete sul territorio e questi tre palazzi almeno a Cividale erano costruiti in muratura non in materiali deperibili e sono di qualche decennio successivi alle capanne indagate questo però non deve voler dire che erano sparite le capanne probabilmente alcuni luoghi di potere alcuni luoghi di culto erano già realizzati con le tecniche che i Longobardi trovano in uso in Italia quando ci arrivano e poi anche gli artigiani cosiddetti alloctoni cioè venuti da fuori gli artigiani Longobardi avranno appreso queste tecniche dobbiamo quindi immaginare una struttura cittadina che alterna palazzi e abitazioni precedenti recuperate alla nuova edilizia spontanea prettamente in Longobarda un altro aspetto di riflessione su queste capanne semiscavate è il loro utilizzo e la loro vivibilità erano sicuramente degli ottimi rifugi noi ne abbiamo sperimentate molte nelle nostre peregrinazioni in Europa nei cosiddetti musei open air cioè villaggi ricostruiti secondo i dettagli archeologici e secondo i dati di scavo abbiamo vissuto in queste capanne per alcuni giorni per alcuni weekend ci siamo tornati a distanza di anni e abbiamo visto che ci si sta bene nei limiti ovviamente della mancanza delle comodità contemporanee ma un argomento di discussione è ad esempio la presenza dei focolari perché perché è fondamentale per dare un'attribuzione abitativa a una capanna ma viene spesso fatto notare come dovessero accompagnarsi a degli altri focolari esterni all'abitazione per le lavorazioni più pericolose per quelle più puzzolenti o più semplicemente per non rischiare di incendiare la capanna perché per quanto in queste capanne il fuoco abbia una funzione di cui parleremo fra poco il rischio esiste sempre e quindi durante la bella stagione spostare le lavorazioni potenzialmente pericolose all'esterno dicevamo le funzioni del fuoco nella capanna perché il fuoco scalda e serve ovviamente per cucinare ma ha anche una funzione strutturale all'interno di queste capanne quando il tetto è di paglia infatti se non viene alimentato un fuoco con una certa regolarità e quindi il fumo non sale attraverso le canne del tetto queste canne marciscono molto velocemente hanno un degrado rapido mentre il fumo passando attraverso le canne tiene lontani parassiti e batteri e ne prolunga la vita una copertura ovviamente con le riparazioni dovute a temporali tempeste può durare una decina d'anni mentre non mantenuta potete immaginare benissimo quanto ci mettano delle canne secche lasciate all'aria aperta ad andare marce la prova dal punto di vista nostro ricostruttivo di questa necessità del fumo nella capanna e quindi una caratteristica anche olfattiva del vivere in queste capanne è il fatto che quando ci richiamo in villaggi che non hanno dei gruppi di ricostruttori risiedenti ci viene spesso chiesto fate le vostre attività fate le vostre didattiche ma per piacere tenete sotto controllo il fuoco ma tenetelo acceso e che continui a produrre fumo proprio per prolungare la durata di questi soffitti ecco quindi adesso abbiamo un colpo d'occhio di come dovevano abitare questi longobardi spero che la cosa sia abbastanza soddisfacente dal punto di vista dei dubbi di chi ci ha scritto se avete altri dubbi a riguardo ovviamente siamo qui e ci vediamo la settimana prossima con un altro dei contenuti che avete scelto grazie e saluti da tutta la fara